amici di inter fan tv cuori forti nerazzurri campioni d'italia bentornati da michele borrelli alle nostre video news siamo tornati anche in versione estiva stessa spiaggia stesso mare siamo sono sulla spiaggia del pizzomunno a vieste domenica 21 luglio domani l'inter ritorna in campo l'estate nerazzurra prosegue con l'arrivo la spicciolata di tutti i nazionali continuano dopo aslani e zelischi il 18 adesso sarà il turno degli italiani il 24 ma l'inter giocherà questa questo allenamento congiunto un po come è stato il primo con il lugano a porte chiuse da piano gentile domani lunedì con la pergolettese squadra di serie c e più o meno quindi saranno gli stessi perché anche zelischi aslani gli ultimi arrivati giocheranno credo proprio uno scampo di partita quindi la formazione potrebbe essere la stessa della prima partita con vanoysden e satriano che potrebbero essere ancora fuori perché erano leggermente acciaccati tra l'altro sono tutti e due sul mercato satriano ancora seguito dal brest dove ha fatto bene in francia e potrebbe andare proprio al brest definitivamente così come vanoysden ci sono sirene dal belgio e vediamo credo che alla fine nessuno dei due sia vanoysden che satriano resteranno poi facciamo un po il punto sul mercato perché ha parlato marotta che ha spaziato dalla nazionale a tutto quello che è il mondo del calcio italiano ma soprattutto a quello che ci interessa il mercato dell'inter allora dicevo per quanto riguarda il programma estivo ma anche partiamo da inter pergolettese quindi gli undici potrebbero essere sempre joseph martinez stiamo imparando a conoscerlo in questi primi giorni di allenamenti pepo detto pepo giuseppe possiamo chiamare peppino in porta martinez difesa tre con il nostro caro bisteccone al centro quindi senza vanoysden acerbi che dovrebbe riaggregarsi con il gruppo adesso che arrivano gli italiani quindi anche devrai arriverà solo ad agosto e quindi dovrebbe essere confermato costante fontana rosa sinistra lì dove può arrivare ancora un giocatore dal mercato il famoso centrosinistra di piede mancino come ha detto ausilio ma oggi ancora non c'è un nome una certezza perché sono praticamente quasi sfumati gli ultra trentenni come rodriguez ma anche il 29enne hermoso così come cabal che è andato alla juventus rimane in testa sempre kivior che il giocatore dell'arsenal che sta prendendo calafiori quindi potrebbe avere meno spazio ma l'inter farebbe l'operazione solo in prestito con diritto di riscatto o obbligo mascherato quindi credo che al momento ci vorrà ancora un po di tempo come aveva detto lo stesso ausilio abbiamo due mesi adesso 15 20 giorni anzi in realtà sono passati quindi diciamo che ci sono ancora una quarantina di giorni di mercato ma l'inter deve fare poche cose come ha detto anche marotta con martinez taremi e lo stesso zelischi la squadra si è rinforzata e anche in attacco oggi marotta spegne un po le possibilità su gudmunson perché perché l'inter lì deve ancora fare operazioni in uscita non c'è solo satriano anche lo stesso salsedo i giovani sarra è andato al foggia in prestito ci sarà anche da piazzare altri giocatori vediamo qualcuno potrà rimanere nella primavera che è l'under 20 che avete visto già nella sezione community la prima vittoria col sunderland 3 a 0 i primi gol anche per la squadra che quest'anno sarà di mister zanchetta quindi correa è da piazzare lo stesso arnautovic tornerà a breve dopo gli italiani sarà proprio lui a tornare il 26 così come il 30 poi tornerà c'è la noglu il 31 sommer il 3 sarà la volta dei francesi pavar turam il 4 devrai dunfris a proposito di dunfris rinnovo che vede marotta speranzoso molto positivo e quindi potrebbe rinnovare dunfris più sì che no in questo momento e poi resta solo lautaro e valentin carboni ecco a proposito di valentin carboni potrebbe girare intorno a lui l'ultima mossa in attacco perché se qualcuno farà un'offerta fuori mercato l'inter solo in quel caso c'è sopra i 30 35 milioni la prende in considerazione lì potrebbe poi andare su un altro attaccante altrimenti potrebbe andare in prestito e quindi l'inter bisognerà capire che tipo di tesoretto verrà fuori da queste cessioni minori anche percentuali sulla rivendita di giocatori che possono essere piazzati che sono stati già venduti negli anni scorso ce ne sono ancora diversi oltre a satriano c'è anche appunto abbiamo detto vanoysder ma anche lo stesso agumet a proposito di agumet devo completare il centrocampo perché a destra c'è camatè che è seguito da diverse squadre anche all'estero così come philip stankovic anche in francia potrebbe potrebbe finire anche in francia non è andato al venezia dove invece è andato ristanio così come alexander invece il centrocampista è andato a lucerne svizzera dove è stato ceduto invece definitivamente zanotti al lugano circa due milioni e mezzo alla fine il prezzo poi vedremo meglio a bilancio quindi dicevo di camatè con haidu alternativa a destra che si stanno mettendo in luce in queste prime giornate ad appiano gentile il ritiro vero e proprio inizia mercoledì c'è da quando si rimarrà anche la notte anche se attenzione perché michi italiana guida il gruppo quindi inzaghi michi italiani nuovi acquisti taremi zelischi stanno già anche tutta la giornata anche la notte lì quindi vero ritiro già per loro centrocampo quindi abbiamo detto spezzone per zelischi e per aslani gli ultimi arrivati tre giorni fa quindi dovrebbero ripartire di nuovo berenbrook che ha fatto bene nella prima partita lo stesso agumet e michi italiana l'onipresente con a sinistra carlos augusto come bisse che michi italiana sono tra i pochi titolari davanti ancora la strana coppia tarema taremi correa che andate in gol che sono andati in gol con il lugano doppietta di taremi e gol di correa e poi entreranno appunto entreranno i più giovani come come ovusu come salsedo come è stato nella prima partita vediamo se anche satriano farà uno scampolo di partita ma credo di no per quanto riguarda la partita con la pergolettese poi gli altri entreranno come entrato topalovic questi giovani arrivato anche alex perez classe 2006 lo stesso leoni della samp che non è stato preso dall'inter ma l'inter è vigile sul giocatore e lui potrebbe essere un'idea per un acquisto che non è un vero vice bastoni perché deve fare lui addirittura ai 18 anni non li ha compiuti li farebbe alla fine del 2024 però avendo avendo talento potrebbe anche l'inter diciamo ripiegare su un'operazione per un per un giovane perché come ha detto in zaghi non è che non dormirebbe la notte per un non arrivo lì perché può giocare carlos augusto può giocare lo stesso lo stesso acerbi e poi non dimentichiamo che viucana comunque quattro mesi fuori tra novembre e dicembre dovrebbe tornare ma credo che alla fine lì l'inter qualcosa la farà più difficile in attacco a me non dispiacerebbe nemmeno se alla fine dovesse rimanere carboni anzi mi sentirei più coperto e anche con più soluzioni se oltre ad arnautovic dovesse rimanere dovesse rimanere carboni però vediamo anche le opportunità che darà il mercato marotta ha sottolineato come anche si lavorerà per la squadra dell'under 23 per carenze strutturali ancora confermato quest'anno l'inter non ha approfittato del posto liberato dall'ancona che è andato al milan però l'anno prossimo potrebbe essere l'anno buono dopo la juventus 2018 l'atalanta 2023 il milan 2024 dovrebbe essere l'inter nel 2025 così come si va avanti sul progetto stadio dove vi avevo detto un po anche in anteprima in esclusiva già dopo venerdì scorso nella puntata di sabato 13 dopo aver parlato in in sede anche con il CEO corporate dell'inter alessandro antonello ci sono ancora tutte e due le strade oggi aperte si sta valutando il progetto di ristrutturazione di san siro con we build però la strada rozzano ad oggi è aperta è più aperta che mai io ho la sensazione ma questa non è una notizia che alla fine san siro possa avere le sue possibilità però aspettiamo e vediamo tanto la risposta sul programma di ristrutturazione arriverà già durante quest'estate già per modo di dire dopo cinque anni persi vediamo cosa decideranno inter e milan in quest'estate dopo aver valutato bene questo progetto di we build i prossimi appuntamenti in campo dell'inter perché dopo che i tifosi tanti anche qua inter fan tv mi avete chiesto perché non è stata trasmessa alla fine questa viene trasmessa inter per golettese sia sul sito dell'inter inter.it ma avete chiesto anche dall'estero quindi inter.it o il canale youtube dell'inter per vedere queste queste prime sgambate allenamenti congiunti ad appiano nemmeno con la maglia vera quella che esordirà non so se a fine luglio già credo potrebbe essere quest'anno abbiamo maglie d'allenamento nuovi sponsor a partita da bezzano.sport ma anche altri introiti per quanto riguarda il training kit e chi più ne ha più ne metta e sono tutti soldi utili anche ovviamente per la squadra dicevo i prossimi appuntamenti allora attenzione da segnare sul calendario perché abbiamo gli orari e le dirette attenzione inter la spalmas sabato 27 ore 19 e 30 da zone e lì non lo so se gli italiani dall'inizio no perché tornano il mercoledì solo tre giorni credo che gli italiani andranno in panchina però li zelischi aslani inizieranno potranno giocare anche dall'inizio la spalmas dove è passato proprio martinez all'inizio della sua carriera ha fatto barcellona cantera la spalmas slip si è poi venuto all'inter così come tare mi sta raccontando anche aneddoti ve li condivido sempre nei nostri vari social ronaldo il fenomeno il suo il suo riferimento e speriamo che possa farci vedere ancora qualche giocata alla ronaldo come già nelle prime partitelle quindi il 27 poi da cesena si passa a pisa perché c'è lo scontro tra fratelli a pisa pisa inter in serata qui l'orario non è certo ma dovrebbe essere prima serata pisa inter sempre da zone il 2 agosto poi c'è a monza inter alitiad e qui andiamo sempre alle 20 e 30 monza inter alitiad il 7 agosto qua già saranno in campo ormai gli italiani arnauto vici alla no glu sommer quasi tutti a parte francesi olandesi e lautaro con valentin carboni per finire le prove generali celsi inter a londra ore 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 16 italiane ore 15 in inghilterra ore 16 italiane per le prove generali e magari ci scappa un forza ragazzi vediamo non vi prometto niente magari anche il 2 il 7 il 27 già vi posso dire di no domani no perché anche su youtube il 27 no tra il 2 il 7 e l'11 1 2 o tre forza ragazzi vediamo poi anche a seconda delle vostre richieste di fare qualche forza ragazzi così come gli aggiornamenti di mercato che non mancheranno mai poi se volete domani mi collego anche col canale twitch gfc inter 1908 alle 14 e 30 tutti gli aggiornamenti sempre sul nostro account twitter sulla nostra pagina facebook per chi vuole seguire solo youtube c'è tutto anche qui andando nella sezione community quindi highlights vi condivido anche la diretta della della partita tutte le curiosità sui nuovi acquisti e questo è un po il quadro ecco dell'estate nerazzura che è un'estate serena anche un presidente marotta molto tranquillo ottimista come sempre ma anche a ragion veduta per quella che è la base forte che all'inter così come anche lo staff in zaghi si sta godendo le prime giocate di zelischi di martinez ma soprattutto di taremi in avanti e poi marotta ovviamente un po più critico ma questo ci riguarda un po più indirettamente sulla situazione del calcio italiano continua a battere il tasto sui talenti che non vengono fuori perché si investe poco in allenatori informatori ma anche si dà meno possibilità a chi è i ceti meno abbienti dove lui dice nascono i campioni non nelle scuole calcio e lì bisogna dare più calcio gratuito a tutti questo è un vecchio ormai cavallo di battaglia del presidente marotta ma avremo tempo magari nei prossimi interagire di tornare anche su temi più generali così come di tornare sulle rivali napoli che aspetta sempre l'uscita di osimen per prendere lukaku la juventus che insegue sempre copmainers ma deve cedere sulle deve cedere hausen deve provare a prendere todiboh in prestito in difesa perché calafiori va all'arsenal e poi altre mosse tra gli esterni il caso chiese il vice vlaovic il milan con morata prova a prendere pure fulcrug deve prendere un difensore forse riesce a prendere fofanan anche se c'è ancora distanza sulla cifra insomma le rivali che cambiano gli allenatori fonseca motta e conte hanno lavoro da fare poi l'atalanta di gasperini invece ha più certezze e poi le altre sono più staccate credo che quest'estate per lo scudetto potremmo iniziare a parlare di cinque sorelle le due nerazzurre e poi conte che ha solo il campionato col napoli ovviamente juventus e milan con l'inter che parte davanti a tutte con una base solida ripeto anche con l'ottimismo della ragione con il mister che sta approntando due squadre tante alternative sempre più forti a partire da appunto da dai tre acquisti e il mercato che potrebbe riservarci ancora qualche sorpresa qualche opportunità il terzo di difesa dietro è un attaccante ma servono adesso prima delle uscite perché quel reparto conta affollamento affollamento giovani meno giovani fuori progetto quindi pazienza ancora pazienza 40 giorni di mercato ma vedete il mare alle spalle come placido bello calmo il mare calmo della sera così è quest'anno il mercato dell'inter frutto della programmazione anzi facciamo così il mare calmo e placido ve lo faccio vedere nell'ultimo minuto di video un po più da vicino perché così come da tradizione vi saluto con il caro pizzo bunno di vieste portato fortuna l'anno scorso e quindi ci riproviamo poi c'è un amico che ci segue da torino di origini viestane ha detto mi raccomando michele quest'anno voglio i video dal pizzo bunno allora non è proprio qua dal pizzo bunno ma la spiaggia è questa e quindi ve lo faccio vedere mare calmo come il mercato dell'inter addirittura le bandiere si sono si sono fermate eccole qua le spalle non c'è neanche più vento mare calmo e il pizzo bunno alle spalle ecco la certezza anche quest'estate un caro saluto da vieste da michele borrelli sempre forza inter ci vediamo mi mando attivate il sim sul simbolo della campanella le notifiche per essere avvisati per ogni nuovo video ogni diretta magari martedì commentiamo con calma questa inter per golettese e tutto il resto del mercato ciao 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 iscrivetevi al canale fatelo conoscere i vostri amici interisti